Francesco, Investing Napoli si parla anche di trading system, raccontaci la tua storia di trader sistematico, come hai iniziato, da quanti anni operi? Io come quasi tutti ho iniziato ad operare come trader discrezionale, quindi l'avvicinarsi ai trading system è stata un'evoluzione della mia storia, proprio perché magari possono sembrare non alla portata di tutti, subito, l'idea è venuta per la necessità di testare quello che stavo facendo, le strategie che utilizzavo sul mercato, anche perché come quasi tutti i trader all'inizio è abbastanza difficile guadagnare soldi sui mercati, quindi l'utilizzo di trading system mi ha consentito di scremare le strategie profittevoli da quelle che in realtà non lo erano. Cosa ti senti di consigliare a chi vorrebbe costruirsi autonomamente un trading system? Sicuramente è necessario un po' di studio, ci sono anche testi notevoli che consentono di approfondire tutte queste tematiche e probabilmente anche effettuare qualche corso di formazione perché da soli effettivamente è abbastanza difficile. Noi come società stiamo cercando di diffondere i trading system anche al grande pubblico ed è per questo che abbiamo creato un trading robot che è gratuito tra l'altro, quindi invito magari chi è interessato al discorso dei trading system di approfondire l'argomento sul nostro sito algoritmica.pro.